Sally e Taylor, dall'invidia all'ammirazione. In fondo al mare, sotto il sole brillante, nuotava felice Sally il delfino, ammirando il suo mondo colorato. Taylor, la stella marina, osservava Sally da lontano, desiderando poter saltare e giocare tra le onde come lei. Un giorno, Taylor disse a Sally, vorrei essere agile e veloce come te, invece sono qui, attaccata a una roccia. Sally sorrise e le propose Perché non troviamo un gioco che possiamo fare insieme? La velocità non è tutto. Decisero di giocare a nascondino tra i coralli. Taylor, con i suoi colori brillanti, si mimetizzava perfettamente. Sally si rese conto che ogni amico ha qualcosa di speciale. L'invidia lasciò il posto all'ammirazione per Taylor. Alla fine, Sally e Taylor impararono che l'invidia è un sentimento di cui si può fare a meno. Ti è piaciuta la storia? Lascia un like e condividi. Ci vediamo alla prossima avventura di Cuoca e i suoi amici.